Un'opera di mecenatismo che riguarda delle opere che si trovano all'interno del Museo Basilio Cascella ad opera di un privato. Ovviamente c'è Lavallo, la collaborazione dell'amministrazione comunale. Di cosa si tratta in particolare? Sì, parliamo dell'Art Bonus che è stato introdotto a decreto legislativo 83 del 2014 poi convertito nella legge 106 e prevede una leva fiscale, cioè la possibilità di recuperare il 65% delle somme donate, quindi per farla breve ogni 100 euro donate se ne possono recuperare 65 e il primo progetto di Art Bonus che interessa il Comune di Pescara si è scelto di farlo al Museo Basilio Cascella con una duplice direttiva. Da una parte il restauro di 17 opere tutte su supporto cartaceo, sia di Basilio che di Tommaso, la cosa bella è che molte diverse di queste opere erano nei depositi, quindi saranno fruibili appena restaurate a tutta la collettività. Per quanto riguarda l'Art Bonus in Abruzzo la situazione non è proprio rosa perché tranne un intervento a Pianela di 34 mila euro sponsorizzato dalla BCC e un piccolo intervento di 600 euro c'è questa possibilità qui a Pescara di recuperare questa somma e naturalmente di sponsorizzare il restauro di queste opere. Una notizia simpatica è che prima di far partire il progetto Art Bonus abbiamo avuto già un piccolo contributo ed è bello che non sia arrivato da un'impresa, da una grande impresa, né da una banca importante del territorio ma è arrivato da uno storico che è Enzo Fimiani che è il già direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara.